Anche l'ultimo nostro concittadino positivo si è negativizzato. È l'annuncio del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Oggi, dopo un lungo periodo di preoccupazioni, rivediamo finalmente la luce fuori dal tunnel. Sono certa che sarà proprio il ricordo dei momenti più bui che ci indurrà a continuare a tenere comportamenti corretti. Il virus non è stato debellato e la lentezza della campagna delle vaccinazioni deve costantemente ancora farci tenere alta la guardia. Abbassare oggi l'attenzione sul rispetto delle regole significherebbe trovarci di fronte a nuovi casi. In questo periodo passato abbiamo dato prova di grande senso di responsabilità. Continuiamo a farlo, conclude il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri.